Riunione in prefettura oggi, convocata dopo la questione dell'ennesimo caso di variante brasiliana. I primi tre, subito contenuti, erano stati accertati nel comune di Poggio Picenze su una famiglia che era rientrata dal Brasile, ma che si era subito isolata. Il caso acclarato riguarda l'Aquila. Si tratta di un infermiere dell'ospedale San Salvatore, che era stato sottoposto al vaccino Pfizer. Entrambe le dosi è asintomatico, ciò significa che il vaccino ha funzionato bene, impedendo al Covid riprodurre sintomi. Ad occuparsi del sequenziamento genomico è stato l'istituto zooprofilattico di Teramo, che ora sta conducendo le stesse analisi sul suo nucleo familiare. Si parla di sette persone positive in totale. Questa famiglia non ha nulla a che vedere con quella di Poggio Picenze e per l'ASD risulta molto difficile capire l'origine del contagio. Ovvio che la questione sta preoccupando un po', anche se non relativamente al vaccino, che evidentemente, come si diceva, ha fatto il suo dovere. Il sindaco Biondi prova a capire le strategie insieme agli altri attori coinvolti e la possibilità di eseguire un nuovo screening di massa su tutta la popolazione. La variante brasiliana potrebbe avere un alto livello di contagiosità. Al momento ancora il Dipartimento di Prevenzione non ha definito esattamente il tracciamento, quindi non sappiamo neanche da dove derivi, dove possano aver contratto il virus, i componenti di questa famiglia. Uno, fra l'altro, vaccinato e quindi asintomatico, segno che il vaccino funziona. Metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, a partire dall'eventuale accordo con la Regione per proseguire la chiusura delle scuole superiori, alla necessità di sottoporre la popolazione a un nuovo screening. Naturalmente non potremo farlo da soli, avremo bisogno del supporto dell'azienda sanitaria locale, dell'Agenzia regionale di protezione civile, che sono state convocate insieme a noi in prefettura e definiremo un quadro più preciso delle misure da adottare. Nel frattempo andrà avanti lo screening sulla popolazione scolastica, anche se i ragazzi non rientreranno a scuola perché potrebbe essere un indicatore di un eventuale contagio. Poiché a ottobre dell'anno scorso la seconda ondata nacque con numeri molto bassi che poi sono diventati quello che ci ricordiamo, vogliamo cercare di prendere di petto la situazione ed adottare misure energiche. Da Pizzoli invece il sindaco Gianni Anastasio è ancora in attesa dei risultati per un paio di sospetti di variante inglese che riguarderebbero due studenti delle medie. Ci vorranno ancora dei giorni per stabilire se c'è effettivamente una mutazione del ceppo.